Non gli perdono di essere morto così presto, ancora ce l'ho con lui se me lo chiedi. Pachino è apposta su un'altura abbattuta dal vento di due mari, io ho un'altra in Mediterranea, questo vento spazza continuamente il paese. Sento Pachino come un'altra mia città natale. Io sono una scrittrice principalmente di teatro. La fotografia è stata scantata a non vederla, poi si è raggiunto anche lui. La persona intelligente non può essere organico a nulla e soprattutto al potere. Deve vedere se è vero per lui, deve porsi delle domande. Mi dicono che Brancati è un grande scrittore, pensateci perché non vi piace. Il teatro di Roma ha fatto un seminario sul teatro. Io vedo, beh vado lì così forse imparo a leggere. Portate un progetto, tutti e tu non ne avevano già un copione pronto. Niente, nulla. Mi sono messa a scrivere. Fate il coraggio di dubitare di quello che mi viene detto. Mio nonno era l'unico uomo del mondo. Essere disorganici. Antonia Brancati presso la Pinacoteca di Pachino il 19 maggio 2016 per il Festival Brancatiano.